Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa del Movimento 5 Stelle. Lascerei subito la parola al nostro Presidente Conte per alcune dichiarazioni e poi iniziamo. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono particolarmente lieto oggi di avere questo incontro con voi perché oggi si celebra una vittoria, la vittoria dell'orgoglio con questa vittoria chiudiamo oggi la porta del Comune e la sbattiamo in faccia alla mafia. Lo facciamo con una persona competente, lo facciamo con una persona onesta, appassionata come Maria Aida Episcopo che il Movimento 5 Stelle, devo dire, ha indicato da subito come la persona più idonea a interpretare questo progetto politico e a offrire una svolta per Foggia. L'abbiamo indicata subito e ci siamo subito convinti, abbiamo convinto tutte le forze di questa coalizione progressista ad appoggiare Maria Aida Episcopo. Oggi io sono qui perché questa è la mia terra, sono venuto più volte e ho creduto da subito a questo progetto e ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo per la realizzazione di questa vittoria. Ovviamente è una vittoria che segna una possibilità di riscatto per questa città dopo uno scioglimento per mafia e da qui spira un vento che dimostra che la testa si può battere su un tema centrale dove i loro maggiori esponenti neppure ci hanno messo la faccia, quello della mafia e della sicurezza. Quando parliamo di sicurezza per noi non è propaganda, non è un spot pubblicitario, ma un impegno concreto preso con i cittadini per garantire a tutti di sentirsi sicuri nella propria città. E questa è una vittoria che noi dedichiamo a delle persone in particolare. Io vorrei dedicare questa vittoria a Francesco Giovanni Panunzio, un imprenditore che ha pagato con la vita l'essersi ribellato alla logica estorsiva del racket mafioso. Ed è una vittoria anche che vorrei dedicare ai familiari di Francesco Marcone che dal marzo del 1995 attendono l'esatta individuazione di quelli che sono esecutori materiali e mandanti di un omicidio di un onesto servitore dello Stato, ricordo direttore dell'ufficio del registo di Foggia. E ancora è una vittoria che dedichiamo ai familiari di Franca Marasco. che è stata, lo ricordo, uccisa nella sua tabaccheria il mese scorso, l'aveva appena riaperta dopo le ferie estive. Vorrei dire che questo voto segna una forte voglia di rinnovamento e di riscatto. E' un voto, è la vittoria dei Foggiani, da parte onesta di questa città. In una città, vorrei ricordare, dove si vendevano i voti e si compravano voti a 40 euro alle elezioni regionali del 2020. Lo certifica la relazione del prefetto Esposito che poi è stata inviata al Ministero dell'Interno e ha dato vita allo scioglimento per mafia, al provvedimento che ha sciolto questa amministrazione precedente di centro-destra per mafia. Quindi da qui parte il nostro impegno. Il nostro impegno sarà costante ogni giorno in questa amministrazione, di tutto il Movimento 5 Stelle. E non posso, ovviamente adesso permettetemi, dopo questi ringraziamenti, non posso non ringraziare tutti i nostri attivisti, i nostri eletti, tutta la nostra comunità politica del Movimento 5 Stelle che si è impegnata fortemente cercando di risvegliare l'orgoglio di questa città e il riscatto delle persone per bene. Vi approfitto di questa conferenza stampa per lanciarvi, prima poi di dare la parola vorrei sentire anche ovviamente Maria Ida e gli amici qui presenti, però vi voglio lanciare anche una notizia che per noi è importante per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle aderirà alle manifestazioni del venerdì 27 ottobre che sono state indette dalla Rete per la Pace e il Disarmo per porre fine alle violenze nel conflitto israelo-palestinese. Porteremo, quindi invito tutti, invito attivisti, simpatizzanti, eletti a partecipare alle manifestazioni del 27 ottobre che si svolgeranno in tutta Italia, e in varie città italiane, a portare un'unica bandiera, per una volta accantoneremo quel simbolo con le 5 stelle 2050 del Movimento, porteremo i colori della pace che devono unire tutti quanti noi. Aggiungo che a livello personale aderirò anche venerdì, sempre 27 ottobre, alla giornata che Papa Francesco ha indetto di preghiera e di digiuno, ricordando anche l'incontro interreligioso di Assisi del 1986. Ecco, io credo di aver detto il mio, passo subito la parola al nostro moderatore. Grazie a tutti e a questo punto lascerei la parola alla neoeletta sindaca Maria Ida Episcopo. Grazie Maria Ida Episcopo. Grazie a tutti, amiche e amici, grazie Presidente Conte, la tua vicinanza alla nostra città è proprio autentica, forte, ci dà tanta emozione, ci pervade tanta sensibilità. Grazie al gruppo dei 5 Stelle di Foggia, grazie a Leonardo Donno, a tutti gli eletti e le elette e a tutti i partecipanti a questo agone politico che ha avuto dei risvolti eccomagici, anche mistici, il lato mistico della politica, perché in questi 40 giorni ci siamo trovati insieme su tutte le piazze, abbiamo urlato anche nelle piazze le nostre ragioni, abbiamo proposto i nostri programmi, abbiamo proposto la nostra alleanza e l'abbiamo esibita a tutti per dimostrare quanto fosse un'unione di forza per cambiare la storia, una storia che ci aveva puniti fortemente, che ci aveva amareggiati fortemente, una storia che badate bene, neanche salendo lì le scale di Corso Garibaldi, dimenticheremo mai e ne rimuoveremo, ma noi ci muoveremo per il futuro, perché da domani, da oggi è il futuro di questa città. E questo futuro lo vogliamo scrivere all'unisono con tutti i cittadini, lo vogliamo scrivere in modo trasparente, lo vogliamo scrivere in modo autentico, ma anche in modo molto professionale e competente, perché qui è di casa la professionalità e la competenza, e non parlo della mia, ma parlo della nostra. Quindi un impegno è una promessa, non è una campagna elettorale che oggi finisce con un risultato di successo, ma oggi inizia il vero impegno che consegue a quella appassionante campagna elettorale. E noi vogliamo farlo, lo vogliamo fare per tutti voi, ma per tutti quelli che verranno, perché ogni seme che potremo seminare sarà veramente un germoglio per il domani, per chi verrà. Niente, noi amiamo Foggia, lavoreremo per Foggia, crederemo in Foggia, e vogliamo che anche i tanti esodati da questa città per motivi lavorativi o per mancata realizzazione professionale possano tornare nella nostra città e riscoprire formule nuove di accoglienza, di possibilità e di opportunità. Per me è stata una campagna elettorale straordinaria che ho vissuto, sempre ripeto, in una dimensione plurale. Non è stata mai una campagna elettorale di una candidata. È stata sempre un'azione di squadra, dal sapore plurale proprio, ci tengo molto a dirlo. E io dedico questo risultato non solo ai miei genitori che non ci sono più. E questo me lo dovete consentire, è una divagazione forte. Perché so che oggi mi abbraccerebbero più teneramente del solito. Ma la voglio dedicare la voglio dedicare a tutti i giovani, a tutte le persone con disabilità, a tutti gli immigrati, a tutti gli anziani, a tutti i minori sofferenti, a tutte le donne vittime di violenza, a tutti quelli che la vita non gli consente un minimo vitale umano che è dignità dell'esistenza e dignità della propria persona. Noi ci muoveremo molto su quel territorio e non dimenticheremo che la nostra città deve rinascere, deve rigenerarsi in tutti i sensi possibili e immaginabili. Grazie Presidente che hai creduto in questo progetto. Grazie Mario, grazie Rosa, grazie Giorgio, grazie Leonardo, grazie Marco non c'è, ma grazie a tutti perché veramente noi veniamo fuori da un percorso comune di altissima qualità umana e morale. È tutta un'altra storia. Allora, prima di lasciarvi a delle domande, io veramente vorrei ringraziare Maria Ida per aver messo a disposizione davvero la sua figura, la sua competenza. io Maria Ida ricordo come se fosse ieri quel giorno di giugno in cui ti venni a chiamare al provveditorato, scendesti, parlammo, giù, immaginavamo come dire un percorso che poi si è realizzato. Devo ringraziare in questo percorso davvero Leonardo Donno che mi ha seguito in tutte le fasi di trattativa, il Presidente Giuseppe Conte, non è stato molto facile, lo devo ammettere, perché costruire questo campo largo abbiamo dovuto come dire faticare per realizzarlo, non è stato così semplice. Devo ringraziare Marco Pellegrini e Giorgio Lovecchio, Rosa Barone che in questa campagna elettorale è stata il motore con me di questa lista e davvero credo di aver consegnato alla città insieme a tutta questa squadra di candidati consiglieri che ringrazio insieme a tutti gli attivisti un risultato storico solitamente il 5 Stelle soffre nelle elezioni amministrative invece qui abbiamo consegnato non solo un risultato importante ma abbiamo consentito a Maria Ida di vincere al primo turno e i nostri avversari questo non se lo aspettavano eppure noi sentivamo questo segno di svolta lo sentivamo quando con il Presidente Conte siamo andati a CEP a Candelaro nelle nostre passeggiate quando abbiamo incontrato i Foggiani perché tutti volevano una svolta rispetto a questa becera destra che ci ha consegnato alle infiltrazioni mafiose e sul palco abbiamo sottolineato come infatti Meloni e Salvini non siano venuti a Foggia a metterci la faccia perché avrebbero dovuto chiedere scusa ai Foggiani per lo stato degli ultimi sette anni in cui la nostra città è stata relegata alla corruzione e al malaffare noi con Maria Ida segniamo davvero un nuovo corso con Maria Ida con Giuseppe Conte con tutto il Movimento 5 Stelle e con tutta questa coalizione nella coalizione del campo giusto come la chiama il nostro Presidente Conte mi sento di ringraziare anche tutti i partiti che hanno aderito tutte le formazioni civiche perché è stato un progetto importante e adesso lascerei però la parola a voi per qualche domanda in modo tale che ci confrontiamo grazie Chi prende parola? Antonella Soccio per l'immediato prego Sì il Movimento 5 Stelle ha sempre regato un contratto con il governo e le sue Presidente con l'esperienza con la nazionale e qui non c'è un contratto in cui veramente voi mettete nero su bianco le cose prioritarie quello che serve per la città diciamo il campo giusto è così largo che potrebbero esserci anche dei problemi delle ambizioni anche delle difficoltà insomma poi successive quali sono anche le garanzie e i paletti che andrete a mettere nella coalizione? Ma come sapete io parlo di campo giusto altre formule sono predilette da alcuni di voi giornalisti commentatori opinionisti per me esiste e per il Movimento 5 Stelle esiste un campo giusto o no? In questo caso le premesse di un campo giusto c'erano le abbiamo verificate quindi quando lei dice dobbiamo fare un contratto noi il contratto io sono diretto fui diretto protagonista di quell'esperienza nel Conte 1 quando iniziamo a governare a livello nazionale con la Lega ma perché si era andati a delle elezioni ciascuno per conto suo e poi per cercare di chiarire anticipatamente il percorso da fare fu necessario di venire a un contratto mettendo nero su bianco quella che era l'azione di governo da perseguire in questo caso però non c'è necessità di questo contratto perché è stato prima verificato un programma comune e questo programma comune è stato messo a base ovviamente di questa offerta politica di questo progetto politico ed è stata trovata in Mariaide Episcopo l'interprete per eccellenza considerata da tutti evidentemente innanzitutto dal Movimento 5 Stelle l'interprete migliore più efficace che ci potesse garantire da offrire tutte le garanzie per rispettare gli impegni con i cittadini per noi la politica è rispettare gli impegni con i cittadini anticipati nel programma perché la gente non va più a votare perché comunemente se voi parlate con i cittadini cosa dicono il mio voto non conta nulla tanto li conosciamo i politici loro parlano molto spesso genericamente i politici prendono prima il voto poi vanno al governo della città della regione nazionale e poi invece fanno quello che vogliono e gli impegni anticipati in campagna etorale non contano più nulla noi come Movimento 5 Stelle stiamo con fatica perché il dialogo con i cittadini far capire che non siamo tutti uguali non è facile non è facile lo dimostra anche il fatto che la disaffezione la sfiducia la mancanza di partecipazione alla vita democratica e quindi alle elezioni aumenta sempre più anche se suffoggia grazie a Dio c'è un dato del 60% che c'è un segno di risveglio di questa città dalla disaffezione dalla sfiducia dalla rassegnazione noi abbiamo dimostrato nella scorsa legislatura nazionale 2018 ci hanno presentato in campagna etorale con un programma lo abbiamo realizzato all'80% oggi perché io dico che questo governo nazionale di destra rischia di far aumentare in prospettiva la sfiducia alla rassegnazione dei cittadini perché questo governo Giorgia Meloni è andato al governo con degli impegni che sta sistematicamente disattendendo uno dopo l'altro a livello europeo internazionale interno e quindi in prospettiva ci consegnerà un paese un popolo di elettori che hanno votato per buona parte anche fratelli d'Italia questa coalizione che oggi ha il governo un popolo di elettori sfiduciati essi per prima per primi rispetto a una politica che fa esattamente il contrario di quello che ha promesso abbiamo un altro microfono buongiorno presidente la domanda un po' più generale questa avete temporeggiato poi come quinto Fabio Massimo avete trovato la quadra questo campo largo capo giusto o campo giusto o campo giusto come dice lei è esportabile come formula voglio dire è un laboratorio guardi come ho detto parliamo di campo giusto ovviamente il presupposto di questo progetto politico è stato innanzitutto temi e programmi condivisi quindi una volta si diceva la piattaforma programmatica linguaggio un po' vecchio la verità obiettivi politici ben chiari condivisi e secondo attenzione secondo che gli interpreti che partecipano e quindi le forze politiche civiche che partecipano a questo progetto siano persone non parliamo di partiti parliamo di persone interlocutori affidabili perché non si può chiedere il voto ai cittadini se sei in coalizione nella consapevolezza che un attimo dopo questo voto venga tradito perché ti ritrovi con compagni di viaggio che il giorno dopo ti rendono impossibile mantenere l'impegno ai cittadini quindi a queste condizioni Foggia io credo oggi dà un segnale è un voto circoscritto guardate che non è che mi ritrovate che quando si perde dico che è un voto locale e quando si vince diventa un voto nazionale è un voto locale qui a Foggia però attenzione è un voto simbolo perché qui come ho detto le forze politiche i cittadini che hanno appoggiato questo progetto politico e le forze politiche con Maria Ida Episcopo hanno messo al centro il tema del contrasto della quarta mafia il tema della rottura della morsa della K clientelare opaca che governava questa città e pongono al centro attenzione il tema della sicurezza perché noi ci batteremo perché Foggia sia una città più sicura e dimostreremo che la destra offre sicurezza soltanto apparentemente attraverso spot pubblicitari mentre noi per noi la sicurezza è cercare di impegnarsi realmente per potenziare le azioni delle forze dell'ordine delle forze investigative potenziare e realizzare la cittadella del palazzo di giustizia dove abbiamo stanziato già nel 2020 70 milioni la videosorveglianza la forza delle forze municipali sempre più presenti sempre più attente per garantire sicurezza ai cittadini ecco questo per noi è l'impegno per Foggia e siamo sicuri che Maria Aida Episcopo con tutti noi giorno dopo giorno lavorerà a questo obiettivo una domanda da parte di Michela Magnifico una battuta sulla manovra in corsa guardi le bozze che ci arrivano ci fanno preoccupare ancora più e quindi peggiorano il giudizio già negativo che abbiamo espresso quando ci sono state anticipate le linee della manovra perché in pratica abbiamo un governo che si conferma taglia sostegno alle famiglie in difficoltà e ormai non parliamo solo delle fasce più fragili e deboli parliamo ormai di un ceto medio completamente impoverito da questa pressione terribile da questa cappa che determina dal caro carburante caro mutui caro bollette e caro vita caro prezzi un'inflazione che pesa terribilmente sul ceto medio non c'è nulla di questo e anzi si continua se c'è qualche piccolo aiuto qualche segnale non è mai strutturale se c'è qualche piccolo segnale invece ciò che è strutturale sono le misure che allentano i presidi anticorruzione sono le misure che favoriscono semmai gli evasori e i corrotti quindi per noi questo è veramente un edirimente al di là del fatto di fare una manovra in deficit e di utilizzare male questi soldi si sta portando il paese in una regressione economica consapevolmente senza le misure per una crescita per gli investimenti e si stanno tradendo tutti gli impegni anche sul piano economico che sono stati anticipati sulle pensioni addirittura se si conferma la bozza che circola si rischia di peggiorare anche la legge Fornero loro che avevano promesso di superare la legge Fornero addirittura il taglio del culo fiscale che dopo tanto incitamento gli abbiamo fatto ripristinare in continuità col mio governo col governo Draghi loro se si confermano i dettagli economici sarà addirittura promesso di mantenere non di dare un euro in più la realtà non è un euro in più di mantenere quei soldi del taglio del culo fiscale in realtà anche lì avrebbero fatto cassa quindi eppure prorogano per il prossimo anno interamente il taglio del culo fiscale se stanno così le cose noi daremo la massima battaglia nessuna tregua a questo governo il quale ha scelto per quanto anticipato di consegnare al Parlamento una manovra blindata senza neppure possibilità che il Parlamento e gli stessi parlamentari di maggioranza possano intervenire per far ravvedere il governo di questa scellerata manovra prima di passare la parola a Mariangela Mariani sono arrivati i dati definitivi delle 147 sezioni foggiane e gli eletti se 5 Stelle dovesse conseguire come confermato 5 seggi sono Mario Dalmaso Lucia Aprile Giovanni Quarato Francesco Strippoli e Francesco Salemme detto Cischi a cui farei un applauso vai Mariangela Mariani per Foggia Today sì grazie presidente in queste ore abbiamo visto un po' i risultati sembrava un testa a testa tra PD e 5 Stelle per i numeri però il PD è un leggero sorpasso 6 persone in consiglio 5 per il Movimento 5 Stelle ma in questo caso l'effetto Conte quanto ha pesato ce lo dice visto che si parla di questo effetto Conte e poi un'altra domanda ne approfitto è una sindaca 5 Stelle da oggi Marita Episcopo allora noi non mettiamo non ci interessano cappelli mettere cappelli sulle persone quando abbiamo considerato chi era la persona più adatta il Movimento 5 Stelle aveva anche la possibilità di proporre un proprio candidato abbiamo pensato a Marita Episcopo per le sue caratteristiche per il fatto che sia una persona peraltro che ha notevole competenze nel campo della pubblica istruzione che per noi è fondamentale per far crescere un intero tessuto sociale e culturale di una città come Foggia in sofferenza non abbiamo pensato quindi a tirarla dalla giacchetta per noi Mariaia Aida Episcopo sarà la prima sindaca donna di Foggia ed è quello che conta e da questo punto di vista mi piace anche c'è un motto che io ho ricordato durante la campagna etorale rispetto a un oltraggio che purtroppo circola anche fuori Foggia che fuggi da Foggia per quella vicenda lì io ho detto non si fuggi da Foggia si rimani a Foggia si lavora per questa città per offrirle un riscatto economico sociale culturale c'erano altre domande forse Nicola Salvatore voleva fare una domanda prego era solo una curiosità per fare le congratulazioni alla nostra sindaca se già pronta a quello che sarà le attenzioni che riceverà come la povera Virginia Raggi questo è un risultato rivoluzionario io temo che la gogna mediatica si aprirà prestissimo cosa ne pensa la nostra sindaca io direi che non ci pensiamo proprio come l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale e vabbè noi abbiamo portato rispetto ascolto a tutti però abbiamo anche deviato delle osservazioni chiamiamole così nei nostri confronti beh io penso che quelle osservazioni oggi possano essere assolutamente superate perché l'evidenza è talmente pubblica che ci incoraggia ad andare avanti non da ultimo volevo ringraziare Rosa Marasco la sorella di Franca per essere qui presente grazie Rosa volevo darti la parola vuoi dire qualcosa? devo dire che sono essenzialmente commossa voglio congraturarmi con la nuova sindaca e con il presidente Conte che fa sempre tanto per Foggia lo fa da tanto tempo però forse adesso è il momento di raccogliere i frutti e noi di Foggia non sappiamo come ringraziarla io come sorella di Franca che che ha visto questo questo dramma esistenziale non facile da superare io credo in lei presidente e se questo è l'effetto Conte io ce l'ho questo effetto le dico solo grazie grazie va bene così? allora prego ah che è la seconda però c'è un supplemento di costi un supplemento per l'immediato c'è anche uno schema simile a quello che era stato realizzato per lei oppure si pescherà dagli eletti insomma gli appetiti del campo giusto potrebbero essere diversi dai vostri è una domanda mal posta a me la dovrebbe porre a Maria Ida Episcopo nuovo sindaco di Foggia allora noi lavoreremo nelle prossime ore è ovvio che abbiamo avuto delle interlocuzioni degli degli scambi abbiamo le nostre ecco osserviamo le nostre risorse umane quelle a disposizione della città aspettavamo doverosamente l'esito di questa consultazione anche per ecco avere una conferma anche delle 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 quote insomma di forza di ogni singola eh di ogni partecipante alla nostra coalizione però lo faremo presto e lo faremo bene e lo faremo individuando come abbiamo fatto per il campo giusto le professionalità giuste gli eletti giusti o le professionalità giuste io voglio anche aggiungere che questo esperimento l'abbiamo già fatto con la lista la nostra lista che oggi vede questi eletti e l'unione tra attivismo storico e società civile che vengono con il nuovo corso di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle abbiamo cercato di unire quelli che sono i vari mondi della città cercando di rappresentarla con eterogenità e quindi credo che abbiamo portato a casa questa missione adesso ci aspetta il governo della città grazie grazie a tutti grazie 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 di cuore grazie a tutti